Un cordiale saluto gentili telespettatrici e gentili telespettatori. Ben ritrovati al consueto appuntamento con qui Regione in apertura. Con il voto contrario della maggioranza e a favore di tutti i gruppi di opposizione è stato respinto l'ordine del giorno che avrebbe stoppato il rigassificatore di Piombino. Polemiche sul doppio gioco del centrodestra. Il Consiglio regionale della Toscana ha respinto a maggioranza con il voto contrario del PD e di Italia Viva. A favore di tutti i gruppi di opposizione un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che intendeva impegnare il Presidente Gianni e la Giunta regionale a interrompere qualsiasi atto volto alla realizzazione del rigassificatore a Piombino a partire dalle opere accessorie già in corso. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno quindi votato a favore della sospensione dell'Iter. In aula ha parlato Francesco Torselli che ancora spera con il nuovo governo che il rigassificatore si possa fare altrove. In sala stampa invece non è arrivata alcuna dichiarazione su questo posizionamento molto delicato perché non proprio in linea con le dichiarazioni dei referenti nazionali di quegli stessi partiti. Ha parlato invece Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle. È stata evidente in aula l'enorme difficoltà del Presidente e Commissario straordinario Gianni nel replicare a quella che era una richiesta che a noi sembrava semplice cioè quella di interrompere, fare interrompere queste attività prodromiche che stanno avvenendo nei dintorni di Piombino da parte di Snam senza che ancora nemmeno sia stata iniziata la conferenza dei servizi. Noi abbiamo chiesto il suo ruolo di garante e lui si è arrampicato, secondo noi, sugli specchi dicendo che noi chiedevamo qualcosa di illegale quando in realtà chiedevamo semplicemente che si facesse il percorso, l'iter previsto dalla legge e soprattutto era assolutamente attinente a quello che è il piano per la transizione ecologica che abbiamo fatto oggi perché stiamo parlando di energia, di emergenza energetica e di risorse e stiamo parlando, proprio oggi abbiamo discusso il piano della transizione ecologica che all'articolo 2 prevede l'utilizzo al massimo delle fonti rinnovabili esattamente nel cuore della costa toscana decidiamo però oggi, anzi chiediamo di interrompere la costruzione di un impianto che per 25 anni utilizzerà comunque delle fonti non rinnovabili. Il Movimento 5 Stelle fa pressione su Gianni. Gianni deve prendere una decisione in questo momento può fare il suo percorso oppure può continuare il lavoro può cercare di accelerare i lavori di Snam in questo momento e portare avanti quel lavoro quando sa già che il governo uscente desiderava questo ma il nuovo governo, per parola della leader di Fratellità e Giorgia Meloni in realtà ha già detto che vuole valutare dei posizionamenti diversi del rigassificatore quindi praticamente si ritroverebbe a fare adesso un lavoro del governo uscente con un governo entrante che fa un'affermazione diversa. Le responsabilità tecniche e il percorso giuridico e legislativo non spetta a noi ma le scelte politiche sì, quindi la colpa o la responsabilità di questo del rigassificatore alla fine sarà su Gianni e non sul nuovo governo se decide di accelerare. A questo proposito il terzo polo definisce il posizionamento del centro-destra un pessimo segnale per le speranze di avere nei tempi necessari questa infrastruttura strategica per il Paese perché due sono le possibilità o i gruppi regionali di cui i partiti del centro-destra non rispondono ai leader nazionali oppure la nuova maggioranza uscita dalle urne si appresta a stoppare Sinedì e l'opera voluta da un governo sostenuto anche da Lega e Forza Italia. Io sono stato il primo in aula a intervenire per respingere questo atto provocatorio a mio avviso del 5 Stelle dove la destra si è accodata perché è opportuno che il Consiglio regionale si pronunci che dia sostegno e forza al nostro Presidente Eugenio Gianni a me fa piacere che Gianni è intervenuto in aula ha detto quello che di fatto ho detto io le leggi si rispettano si procede nella conferenza dei servizi si possono dare delle condizioni ma si va avanti sull'intervento del rigassificatore perché è un intervento che serve al nostro Paese perché ci sono le condizioni per realizzarlo perché ci sono oggi i tempi per realizzarlo e a me fa piacere che poi anche il Partito Democratico abbia discusso al proprio interno magari ma poi ha deciso di votare così come ha votato Italia Viva così come ha chiesto il Presidente Gianni e credo che la nostra presenza in Consiglio regionale sia determinante oggi lo abbiamo dimostrato con la fermezza delle nostre posizioni. Siccome è stato già stabilito per legge un timing di verifiche che non si possono fermare e il rigassificatore dove entrare in funzione nei primi mesi del 2023 il Governatore Eugenio Gianni ha risposto così Io ritengo chiaramente questo dibattito molto intenso animato dall'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle che mi chiedeva di interrompere l'iter per l'autorizzazione del rigassificatore a Piombino è stato un dibattito politico più che tecnico come era nella natura dell'ordine del giorno è venuto fuori con molta chiarezza che sono contrari a continuare l'iter coloro che hanno votato a favore quest'ordine del giorno ovvero il Movimento 5 Stelle Fratelli d'Italia Forza Italia La Lega mentre abbiamo votato contro abbiamo quindi respinto senza nessuno che si sia sottratto a questo il terzo polo e il Partito Democratico ma io veramente rimango molto sconcertato perché qui non siamo a Piombino siamo nel Consiglio regionale della Toscana ovvero di una regione di 3 milioni e 668 mila abitanti che ha la sua autorevolezza con posizioni nazionali vedere che ancora oggi dopo che gli italiani pagano delle bollette mostruose dopo che le imprese sono condizionate nel loro futuro dal gas dopo che l'interesse nazionale dichiarato e su cui tutti sono d'accordo è quello di diminuire la nostra dipendenza dalla Russia che ci siano ancora queste forze politiche che votano per interrompere l'iter insomma si prenderanno le loro responsabilità di fronte agli italiani, ai cittadini, alle imprese io ho voluto ribadire che sto facendo quello che mi dice la legge come commissario Gianni insomma non indietreggia e sono fino al 27 ottobre data di scadenza per poter rilasciare l'autorizzazione impegnato a acquisire tutte le osservazioni, i pareri per rendere l'autorizzazione il più possibile perfetta e il più possibile vicina alle corrispondenze della gente accanto all'autorizzare il rigassificatore presumibilmente c'è anche il memorandum Piombino ovvero le opere che saranno fatte a beneficio della comunità di Piombino e mi muoverò su questa strada Cambiamo argomento interrogazione della Lega sulle difficoltà che stanno vivendo le residenze sanitarie per anziani strutture su cui gravano adesso anche i rincari energetici Il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli ha interrogato la giunta guidata da Eugenio Gianni sulle molteplici e spinose problematiche relative alle RSA, le residenze sanitarie per anziani Galli chiede una rivalutazione Istat delle quote sanitarie sottolinea la carenza di personale ma soprattutto le nuove difficoltà collegate al caro bollette i ricoveri per anziani evidenzia sono già in ginocchio La crisi energetica che gli sta li ha colpiti in maniera decisiva forte e non possono ridurre i consumi perché comunque dentro ci sono delle persone anziane ci sono delle persone fragili perciò chiediamo e stiamo chiedendo insistentemente un tavolo nel quale l'assessore oltre a tutti i numeri che ha snocciolato in consiglio regionale si mette ad un tavolo ad affrontare con i diretti interessati quelle che sono le problematiche anche perché voglio dire ci sono già due altre regioni mi riferisco al Veneto ma soprattutto alla vicina Emilia Romagna che hanno dato dei forti contributi dei forti ristori per quanto riguarda proprio la crisi energetica E sentiamo anche come ha risposto la maggioranza a queste richieste al dibattito che poi si è sviluppato in consiglio La risposta è stata da parte della Giunta è stata una risposta con aumento delle rette con un riconoscimento dei posti di un risarcimento per i posti tenuti vuoti a causa del Covid ovviamente in questo periodo tutti i settori hanno dei danni ingenti per il carico energetico le RSA dalle vetterie alle RSA al terzo settore tutto non c'è un settore che non sia colpito da questo e su questo ci devono essere dei provvedimenti europei e nazionali per la tutela se no evidentemente la regione non ha strumenti economici ho sentito poi in consiglio delle cose fantasiose che vabbè non meritano neanche commento ma è evidente che l'elemento da parte nostra è quello della tutela soprattutto dei soggetti locali legati al terzo settore che garantiscono qualità garantiscono vicinanza per noi è fondamentale la tutela delle persone che sono a passare gli ultimi anni della propria vita nell'RSA rilanciare e implementare la partecipazione come strumento alla codefinizione delle politiche pubbliche è uno dei punti contenuti nella proposta di risoluzione approvata a maggioranza dall'aula del consiglio regionale nel corso dell'ultima seduta la partecipazione dei cittadini nei processi di costruzione delle politiche regionali e locali è uno degli aspetti dell'ordinamento sancito dallo statuto toscano il testo di una proposta è stato illustrato in aula dal presidente della commissione affari istituzionali Giacomo Bugliani del PD la proposta contiene anche impegni per garantire risorse idonee al ruolo e funzione dell'organismo l'autorità per la partecipazione ha reso la propria relazione il proprio rapporto da prima alla prima commissione poi attraverso una proposta di risoluzione all'aula del consiglio regionale si tratta di un report dell'attività svolta negli anni 2020 e 2021 da parte di questa autorità per la partecipazione che si è insediata nel maggio del 2020 un'occasione per acquisire una serie di dati importanti ad esempio nel 2021 sono stati finanziati percorsi partecipativi e dibattiti pubblici per oltre 350.000 euro sono stati realizzati ben 23 percorsi partecipativi l'80% dei quali sono stati promossi da enti locali e nell'aula del consiglio regionale ha deciso non soltanto di esprimere apprezzamento per l'attività svolta dall'autorità per la partecipazione ma anche di assumere alcuni impegni che vanno da una parte nella valorizzazione del ruolo dell'autorità stessa dall'altra nella necessità di adeguare la disciplina della legge sulla partecipazione alle normative di settore ad esempio i percorsi partecipativi previsti dalla legge urbanistica o ancora dalla disciplina dei beni comuni o anche un allineamento rispetto alla disciplina nazionale come ad esempio il codice degli appalti durante il dibattito è intervenuto il vicepresidente del consiglio regionale Marco Casucci della Lega sottolineando come lo strumento della partecipazione avrebbe l'obiettivo di prevenire a monte la possibilità di contenziosi amministrativi sicuramente occorre fare molto per modificare la normativa per armonizzare la legge regionale di riferimento con le altre leggi che prevedono la partecipazione potrei ricordare la pianificazione urbanistica la gestione dei beni comuni occorre investire dare risorse per quanto riguarda la partecipazione nel tempo sono venuto sempre più ad apprezzare quello che potrebbe essere il ruolo importante della partecipazione ma occorre dargli risorse occorre far sì che vi possa essere una struttura diversa perché manca un vertice per quanto riguarda questo organismo collegiale noi esprimiamo tutta una serie di perplessità perché se crediamo davvero nella partecipazione occorrono risorse e strumenti adeguati ma non è la prima volta che lo dico per quanto riguarda le figure di tutela gli organismi in genere perché la regione toscana chiede di modificare le normative di riferimento che in gran parte non sono più attuali in futuro si potrà incentivare l'individuazione di strumenti adeguati all'autorità per effettuare un monitoraggio sugli esiti dei processi avviati e poi l'aiuto ai piccoli comuni di minori dimensioni nell'attivazione dei percorsi partecipativi l'autorità per la partecipazione è fondamentale per la regione toscana è fondamentale per mantenere il dialogo con la cittadinanza e con gli enti locali ma finora se ha funzionato meno di quello che è stato necessario è stato per due ragioni principali è stata molto poco finanziata anzi nel corso del tempo definanziata e i processi partecipativi invece necessitano comunque di un contributo da parte della regione per poter essere implementati e soprattutto il fatto che molte volte la partecipazione è stata ridotta talmente all'osso che è stato possibile che è possibile chiamarla poco più che una comunicazione unilaterale e non verrebbe avere partecipazione il rigassificatore di Piombino è l'ultimo grande esempio di questi passaggi che non sono andati come dovevano essere sull'autorità della partecipazione occorre anche qui capire che tipo di percorso vogliamo fare perché se da un lato la partecipazione ha portato nell'ambito di alcuni progetti locali dei risultati anche molto interessanti dall'altro però dobbiamo anche vedere la partecipazione come uno strumento ed è la stessa legge che lo prevede da sfruttare nel momento in cui come accade molto spesso si debba evitare magari di adire dei contenziosi e quindi di favorire una partecipazione a monte rispetto a quelle che possono essere delle grandi opere questo è diciamo la distinzione che viene fuori anche dalla norma troppo poche sono state diciamo le partecipazioni del secondo tipo cioè quelle che sono state attivate per concertare rispetto a grandi opere che invece sono una parte essenziale ed importante nel momento in cui si decide come dire di intervenire a monte su una concertazione che poi debba portare alla redazione dell'opera e il consiglio regionale chiede anche l'istituzione di una procura nazionale del lavoro nell'atto approvato a maggioranza la richiesta alla giunta di attivarsi con governo e parlamento con l'obiettivo e la finalità di arrivare al più presto a una specializzazione dei magistrati che si devono occupare delle morti sul lavoro l'aula del consiglio regionale chiede l'istituzione di una procura nazionale del lavoro nell'atto approvato a maggioranza è presentato dalla prima firmataria e l'area bugetti del partito democratico la richiesta alla giunta di attivarsi nei confronti del governo e del parlamento affinché venga istituita quanto prima con l'obiettivo di aumentare la specializzazione dei magistrati e far fronte in modo sempre più efficace alle ipotesi di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro si tratta di un tema discusso già molte volte affrontato anche con la legge regionale 28 del 2019 è un tema molto importante legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro è un pezzo che completerebbe un quadro dove la regione toscana è sicuramente avanti rispetto ad altre regioni mi viene in mente la legge 28 del 2019 che è la legge che istituisce le forme di collaborazione interistituzionali per la sicurezza dei luoghi di lavoro prevedendo anche la formazione peraltro dell'imprenditoria ma a livello nazionale si dovrebbe secondo me cercare di dare un'omogeneità e di creare anche dei pool specialistici così come è stato chiesto nel disegno di legge presentato al senato il 2052 che è un testo di legge molto avanzato sostenuto peraltro anche delle associazioni degli invalidi su dei luoghi di lavoro e credo che questo per la regione toscana costituirebbe di rafforzare presso i nostri tribunali dei pool dei magistrati che abbiano delle competenze specifiche quindi di poter agire in maniera tempestiva di poter dare formazione e quindi di poter rafforzare dei presidi che possono essere più capillari per non solo intervenire quando ci sono le tragedie ma soprattutto fare prevenzione un tema molto attuale che durante il dibattito il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi ha ritenuto interessante per questo motivo ha chiesto di aprire una riflessione più approfondita aspettando l'insediamento del nuovo governo nazionale visto anche i migliaia di incidenti sul lavoro con aziende che spesso sfuggono a ogni forma di controllo una richiesta che però è stata respinta dalla maggioranza perché ha concluso in sede di replica Ilaria Bugetti è necessario dare subito come regione toscana un segnale forte senza aspettare il nuovo governo consiglio regionale che ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2021 di ente acqueumbre toscane 22 voti a favore 3 contrarie 5 astenuti nella circostanza presentata una proposta per allargare il CDA e fare spazio a una rappresentanza locale l'ente acqueumbre toscane si occupa di tutte le opere di accumulo e distribuzione delle acque per conto sia del ministero delle politiche agricole che delle regioni toscana e Umbria in forza di un accordo raggiunto qualche anno fa il territorio di cui si parla è quello della Valtiberina all'area servita dall'invaso di Montedoglio il più grande della Toscana intanto parliamo della più grande diga che c'è nel nostro territorio che per quanto riguarda il dimensionamento è tre volte superiore a quella di bilancino che forse è più conosciuta tanto per dire di cosa parliamo negli ultimi giorni ci sono state polemiche sulle nomine nel consiglio di amministrazione le nomine vengono fatte sulla base dell'emissione di un bando e dei curriculum che vengono presentati anche questa volta c'è stato il rinnovo che ha portato tra l'altro alla presidenza una persona autorevole che ha tutte le caratteristiche e sicuramente darà un contributo importante alla gestione delle acque di Montedoglio che servono sia per la parte dell'agricola perché per questo era nata la diga sia per quanto riguarda l'idropotabile c'è da tempo la richiesta di avere anche una presenza nel CDA da parte di persone che siano radicate nel territorio della Valtiberina ecco con questa proposta a parità di spese noi proponiamo di portare il consiglio di amministrazione da 3 a 5 e quindi ricomprendendo due rappresentanti che siano rappresentanti più radicati nel territorio dove insiste la diga il consiglio regionale nella stessa seduta ha approvato anche il bilancio 2021 valore di produzione pari a 4 milioni e 570 mila euro costi di produzione di 4 milioni e 530 mila euro con un avanzo di esercizio di 39 mila euro i settori dai quali arrivano i ricavi sono quelli relativi all'erogazione della risorsa idrica e alla produzione di energia idroelettrica e questo era il nostro ultimo servizio noi vi ringraziamo per la cortesa attenzione che come sempre ci avete riservato arrivederci a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.